Dondolio. Mia moglie deve odiarmi. Ha partorito due settimane fa e continuo a rifiutare le sue richieste di tenere in braccio il bambino. Non sono una cattiva persona, davvero non lo sono. Da quando siamo tornati a casa dall'ospedale rimane rinchiusa nella camera del bambino dondolandosi e stringendo il suo fagottino ben stretto. Evito di passarci accanto, altrimenti mi chiederebbe di tenerlo in braccio. Non sopporto la sua vista, non avrei mai voluto accadesse. Non a lei, non a noi. Ma io non sono arrabbiato con lei. Come potrei? Ciò che mi spezza il cuore è vederla dondolare avanti e indietro finché non si stanca e si addormenta. Sapevo che tornare dall'ospedale a mani vuote sarebbe stato difficile, ma non avrei mai pensato che sarebbe stato addirittura così brutto.